Eccoci quindi qui ragazzi allora, benvenuti in questo nuovo video sotto una pioggia a dir poco torrenziale che spero con tutto il cuore non rovini l'audio di questo video per parlare un pochino insieme a voi della possibilità che Antonio Conte possa diventare il nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione Vi premetto prima di tutto una cosa, io finora non ho fatto un video a riguardo e probabilmente mi sono giocato la maggior parte delle visual che avrei fatto con questo video se l'avessi caricato qualche giorno fa perché ho voluto, volutamente, scusate la ripetizione, aspettare perché quando ho visto la notizia uscita all'incirca 3-4 giorni fa non gli ho dato troppo peso perché comunque già da diverso tempo si parla di una possibilità di Conte come un allenatore della Roma e non avevo notato effettive novità in merito mi sono sembrate le classiche notizie del tipo la Roma potrebbe voler Conte, questo e quell'altro uno dei tanti nomi che sono stati fatti e sono stati accostati alla panchina giallorossa ho deciso però oggi di fare il video sia perché mi è stato richiesto da più persone nei commenti e nel direct di Instagram a proposito seguitemi su Instagram se non l'avete ancora fatto e sia perché comunque sembra che un fondo di verità su queste notizie ci sia allora, vi dico le mie impressioni iniziali secondo me ci sono alcune verità a riguardo la prima innanzitutto è che alla Roma piace Conte piace Conte perché è una figura importante è una figura soprattutto in Italia apprezzata una figura che ha sempre fatto bene come allenatore un allenatore carismatico un allenatore con le palle un allenatore che innalzerebbe ulteriormente il livello comunque della squadra poi è vero che la squadra si fa anche dai giocatori però una figura come lui come allenatore sarebbe anche un incipit fondamental comunque sarebbe anche un motivo in più per alcuni giocatori per restare e per altri giocatori per venire dico questo perché ho notato nelle ultime ore che sapete tutti bene che Manolas piace alla Juve ma ha lo stesso giocatore e si è preso del tempo per parlare di una sua possibile eccessione perché vuole vedere se la Roma effettivamente potrà avere Conte come nuovo allenatore adesso non so se questa notizia è vera però è indubbio il fatto che un allenatore carismatico un allenatore con le palle può aiutare determinati giocatori ad andare in determinate squadre perché magari semplicemente vogliono essere allenati da queste persone non so se l'ha detto De Rossi o qualche altro giocatore però molte persone hanno fatto commenti di apprezzamento su questo allenatore e secondo me è una cosa in dubbia perché anche io lo reputo molto capace lo reputo adatto per una rivoluzione in casa Roma ve lo dico perché Conte ha vinto i suoi scudetti alla Juve cioè facendo iniziare un progetto nel senso che quando è arrivato Conte adesso è facile dire questa è la Juve qua e la Juve là ma la Juve di Conte iniziale aveva come obiettivo di arrivare in Champions League una squadra che viene da due settimi posti consecutivi non poteva ambire di più anche perché effettivamente la rosa che era stata costruita era sì forte ma all'inizio nessuno ci puntava particolarmente c'era comunque una squadra di livello ma non così tanto una squadra da terzo posto una squadra che poteva essere il Napoli di quest'anno per dire se non addirittura di meno Conte è riuscito a prendere una squadra in difficoltà perché comunque in quel momento l'ambiente non era certo di più dei migliori ecco era abbastanza sfiduciato e l'ha portato con grinta e carisma a vincere uno scudetto secondo me meritatissimo questo secondo me è il collegamento che si può fare con la Roma attuale la Roma in questo momento è una cioè l'ambiente giallorosso in questo momento è difficile è complicato ancora c'è la possibilità di ottenere il quarto posto ma comunque questa stagione è stata veramente sofferta da parte di tutti noi me compreso ma l'avete visto benissimo tramite i miei video e quindi c'è una sorta di parallelismo tra quella Juve e questa Roma due squadre comunque importanti che vogliono ricominciare da capo se così possiamo dire Conte è stato accostato molto spesso anche all'Inter ma vi dico perché secondo me la pista Roma in queste ultime ore si è fatta più calda perché l'Inter rispetto alla Roma non ha questo gran bisogno di ricominciare da capo mi spiego meglio è vero che l'Inter comunque è una squadra più blasonata una squadra che con molta più probabilità della Roma l'anno prossimo andrà in Champions League e quindi ti darebbe più sicurezze però è anche vero che Conte è il allenatore a cui piacciono le sfide lo ha dimostrato non solo con la stessa Juve ma anche con la nazionale perché ha preso una nazionale in difficoltà dopo dopo l'eliminazione disastrosa nel mondiale 2014 l'ha portata ad un passo dalla semifinale dell'europeo ma in generale con lui si è vista una nazionale sicuramente migliore con questo non voglio dire che Conte sicuramente andrà alla Roma e non andrà all'Inter assolutamente perché ancora le piste sono tutte apertissime e può succedere veramente di tutto quello che però io penso è che se effettivamente Conte vorrà essere protagonista di un progetto e vorrà accettare una sfida importante è più probabile che scelga la Roma ma non perché l'Inter sia questo o quell'altro però comunque l'Inter non ha tanto bisogno di cambiare cioè per me l'Inter già adesso ha un buon allenatore è criticato come tutti vengono criticati quando sbagliano però per me Spalletti rimane un buonissimo allenatore quindi rispetto alla Roma all'Inter c'è meno bisogno di cambiare soprattutto in panca poi per carità poi magari sarà lo stesso Spalletti dire me ne vado mi sono rotto le palle questo e quell'altro però diciamo che la Roma ha più bisogno di un nuovo allenatore e quindi potrebbe fare uno sforzo in più rispetto all'Inter per quanto riguarda appunto l'allenatore perché magari perché si parla nell'ultima ore di un'offerta di addirittura 9 milioni e passa all'anno a Conte un'offerta di poco clamorosa molti dicono che è impossibile che la Roma offri una cifra del genere però secondo me se consideriamo che l'anno prossimo che la prossima stagione l'intento sarà quello di togliersi tanti stipendi pesanti come quelli di Pastore probabilmente anche quello di Fazio o anche di altri giocatori la Roma da quello che sto vedendo io vorrà usare questi stipendi non per prendere altri giocatori ma per darli direttamente all'allenatore per far vedere ai giocatori della stessa squadra che è lui il capo che è lui quello che prende i più soldi è lui quello che comanda perché anche il mio amico aspettando il tattico lo aveva detto poco fa o non se l'aveva detto lui o Lorenzo comunque in generale un allenatore per farsi rispettare di più deve dimostrare ai giocatori che è il più importante che è la figura più rappresentativa all'interno della squadra e di conseguenza deve essere il membro dello staff che prende di più addirittura più degli stessi giocatori e quindi secondo me non è impossibile che la Roma voglia offrire questi soldi appunto a Conte perché una figura come lui sicuramente aiuterebbe l'ambiente a ritrovare ottimismo e a ritrovare fiducia fino a qualche mese fa se dicevi Conte qualcuno ti avrebbe detto ma chi se ne frega teniamoci di Francesco è una persona d'onore Conte è stato indagato e questo e quell'altro per fortuna l'ambiente si è più normalizzato nel senso che ha capito che una figura come Conte sarebbe di importanza vitale per l'ambiente di Allorosso e per la stessa squadra indipendentemente dal suo passato indipendentemente da questo e quell'altro in questi casi si guarda l'aspetto puramente tecnico quindi io e poi tra l'altro Conte lui stesso ha detto in un'intervista di diverso tempo fa quando ancora allenava la Juve che qualora sarebbe diventato fosse diventato madonna vabbè comunque qualora fosse diventato spero di aver detto giusto che vergogna comunque se negli anni successivi sarebbe diventato ah comunque se fosse diventato allenatore dell'Inter nelle stagioni successive sarebbe diventato il primo tifoso dell'Inter per far capire che lui come tantissime altre persone sono professionisti e quindi si comportano in un certo modo in base all'ambiente dove stanno quindi se Conte dovesse venire alla Roma non è che sarebbe uno juventino che una specie di come si dice una specie di talpa che va a finire nella Roma non diciamo queste stronzate cioè Conte verrebbe alla Roma e se dovesse venire alla Roma pensate veramente che voglia rovinarsi la carriera in qualche modo cioè se lui dovesse venire qua è perché vuole vincere anche qua e qua ovviamente si possono fare centomila discorsi cioè se effettivamente sarà possibile farlo quale rosa effettivamente potremmo dargli a disposizione fatto sta che comunque secondo me lo ripeto le verità sono che la Roma è interessata a lui a lui piacerebbe un'esperienza del genere ma ancora c'è tanto da lavorare bisogna lavorare sullo stipendio offerto bisogna lavorare sui giocatori che la Roma gli darà a disposizione perché sicuramente secondo me se lui se lui mostrasse anche un minimo di interesse vorrà che qualche giocatore resti a Roma secondo me Manolas Dzeko e questi qua comunque i giocatori più rappresentativi quindi bisognerà ancora lavorarci tanto per vedere se effettivamente questa opzione sarà percorribile però concludendo visto che in questo video non l'ho mai detto ma spero che si sia capito per me Conte è la scelta migliore che ci possa essere meglio di un Sarri meglio di chiunque altro anche se Sarri lo reputo comunque un buon allenatore se dovesse arrivare Conte sarei veramente veramente felice poi dovranno succedere tante altre cose prima di poter dire siamo tornati in una squadra di alto livello però permettetemi di dire che se dovesse arrivare sarei veramente veramente contento perché io non sono un tipo che guarda a quello che hanno fatto questo e quell'altro perché io guardo l'aspetto tecnico e a livello tecnico Conte è un signor allenatore fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un saluto e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi grazie